Buongiorno e buon lunedì 23 marzo, ogni giorno adesso vi vorrò ricordare che cosa successe al Milan? Oggi, 23 marzo 1969, vittoria sul Bologna, 4-0, gol di Fogli, poi Pierino Prati, Pierino Prati, Pierino Prati, 4-0, tripletta di Prati. Ma veniamo all'attualità, ci si preoccupa del futuro di Ibrahimovic, ci si preoccupa del futuro di Donna Rumma, qualcuno incomincia a mettere qualche preoccupazione per il futuro di Romagnoli, che è un altro dei grandi cardini del Milan, uno della spina dorsale, fa parte della spina dorsale del Milan. Giocatore capitano che nel momento più difficile del Milan ha detto io firmo, credo a questo Milan, e sono gesti che i tifosi non dimenticano e non dimenticheranno mai. La sfortuna di Romagnoli, purtroppo per lui, è di aver giocato di fianco a giocatori eccellenti ma non a campionissimi, ma poi soprattutto avere cambiato questi giocatori eccellenti non campionissimi tantissime volte. Non c'è un Romagnoli con, l'abbiamo visto con Musacchi, l'abbiamo visto con Zapata, l'abbiamo visto quest'anno con Chier, con Duarte, con Gabbia, nelle stagioni passate non c'era, diciamo, il giocatore fisso di fianco a Romagnoli. Questo ha creato dei problemi a lui, di affiatamento e di, in generale, problemi alla difesa, e ha creato dei problemi, ovviamente, anche alla crescita di Romagnoli. E dunque, però, parliamo di un giocatore assoluto, di un giocatore, come dicevano i latini, rara abis, un uccello raro, non ce ne sono tanti di difensori centrali di quel livello. Ma la domanda è, ma allora se arrivassero dei soldi veri? È un altro destinato a partire? Qui dobbiamo metterci d'accordo, perché se il fondo è io, i sacrifichi, uno, eventualmente uno, già io soffro, uno soffro. Però se i giocatori bravi li manda via perché Romagnoli mi sembra che prenda intorno a 3 milioni e mezzo, e allora se questo è la discriminante tra mandar via un giocatore o meno, no, perché risparmi 3 milioni e mezzo, devi andarti a trovare un difensore centrale ed è rarissimo. Ce ne sono pochissimi, pochissimi, pochissimi. E quindi averne uno bravo? Piuttosto il Milan dovrebbe investire soldi veri per, anche giovani se volete, per un difensore centrale da affiancare col piede destro a Romagnoli. Per poter formare il Nesta Tiago Silva, prima il Baresi Costa Curta o Baresi Filippo Galli, insomma dei giocatori che possano formare una coppia di assoluta, di assoluta, di assoluto livello, di assoluta affidabilità. E allora io mi auguro veramente che non si incominci già a riparlare dopo Ibraimovic per motivi che conosciamo, Donna Roma per motivi che conosciamo, ora Romagnoli che appartiene sempre diciamo all'entourage, al gruppo Raiola, però io credo che Romagnoli creda al progetto, è un capitano, un capitano vero, un capitano che ripeto non è cresciuto in maniera così esponenziale ma non per sue deficienze o suo rallentamento inconscio della sua carriera, proprio perché non è stato mai messo in condizioni per motivi vari di giocare con una coppia, con un compagno affidabile e sicuro a lungo, grande compagno a lungo. Quindi non voglio parlare, non voglio neanche immaginare che Romagnoli possa essere messo sul mercato, non voglio neanche immaginare che Romagnoli possa essere messo sul mercato. Donna Roma, se dovesse, già soffro, però c'è una scadenza al 21, eccetera. Romagnoli non vorrei che si ricadesse anche lì in un problema. 3 milioni e mezzo sono tanti ma dobbiamo metterci anche qui d'accordo. 3 milioni e mezzo sono tanti perché difensori centrali non ce ne sono tanti. Se tu dai via a Romagnoli e ne prendi uno da 2-2,5 o lo scouting del Milan riesce veramente a trovare il giocatore formidabile da mettere al posto di Romagnoli, non ne vedo sinceramente in giro a poco prezzo, ma se anche devi risparmiare 3 milioni e mezzo per risparmiare un milione, un milione e mezzo e poi se lo devi andare a trovare, se lo devi andare a cercare ti costa 25 o 30. Però prendi i soldi di Romagnoli, prendi i soldi di Romagnoli per l'accessione di Romagnoli ma non sei sicuro di prendere un Romagnoli. Quindi io mi auguro che almeno, c'è già il problema Donnarumma, il problema Ibrahimovic, anche il problema Buonaventura, anche il problema Romagnoli non ci investa, non ci avvolga nelle prossime settimane. Almeno con Romagnoli dobbiamo star tranquilli. È uno dei rari difensori centrali formidabili del mondo calcistico oggi europeo, italiano e internazionale. Il Milan ce l'ha, deve tenerselo stretto perché gli altri Romagnoli in giro, fenomeni non ci sono e se sono fenomeni costano tanto ma non ci sono in giro. Vedo le difese anche dei top club, hanno ancora dei giocatori vecchi, hanno ancora dei giocatori dall'usato sicuro, vedi il Paris Saint Germain, il Real Madrid, il Barcellona. Quindi è un giocatore nel pieno della sua maturità, il Milan non deve neanche pensare di cederlo. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like e iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellega.